Direi che ormai ci siamo, ci siamo la promotiva è partita, non si ferma più e direi che c'è il governo, ci sono le regioni, i comuni e ci sono le comunità, comunità che sono cominte dalle regioni e poi non dimentichiamolo l'endocrina e il sostegno di Sergio Mattarella, nostro Presidente della Repubblica, che non ha fatto mistero di sostegno delle regioni. Visto il dossier, visti i siti, direi che se fossi nel CIO avrei difficoltà a dire di no.